Il mondo olivicolo a Lombardo è in ginocchio, la produzione di olio quest'anno sarà quasi nulla. Se nel 2020 la campagna olearia si era attestata intorno alle 2300 tonnellate, oggi le prime stime parlano di 2300 tonnellate con perdite variabili che vanno dal 60 al 95%. Sono molteplici fattori che hanno portato a questa situazione, tra cui l'andamento climatico e la presenza dei parassiti, in particolare la cimicia asiatica. Anche sui laghi bresciani molte aziende non raccoglieranno perché le operazioni sarebbero troppo onerose. Ci sono aziende che non raccoglieranno e quindi non faranno una bottiglia di olio. Il problema più grosso, più grande, è quello che le cultivar che sono state più colpite è proprio il leccino per quanto riguarda il lago di Iseo, è la cultivar predominante che deve essere presente almeno il 40% all'interno della DOP, dei laghi lombardi, menzioni Sebino appunto. Di conseguenza quest'anno mancheranno le DOP della nostra Lombardia. Tra le altre cose questa è la seconda annata negativa perché già nel 2019 non avevamo prodotto. Il 2020 invece c'è stata una sovrapproduzione e il 2021 siamo di nuovo a zero. Questo vuol dire che un'azienda non ha certezze per il futuro, di conseguenza si trova spiazzata e non sa se è il caso di investire oppure no. Di fatto ci siamo resi conto che avendo appunto queste annate così diverse, di sovrapproduzione, di produzione zero, dovremo essere in grado di coprire le annate zero e quindi nel momento in cui abbiamo una sovrapproduzione dovremo raccogliere tutte le olive che abbiamo in pianta anche se rischiamo di superare il limite consentito dalla DOP in quanto il produttore DOP deve raccogliere, può certificare un certo quantitativo di olio in base al numero di piante che ha all'interno dell'uliveto. In queste annate di sovrapproduzione, quindi 2018 e 2020, abbiamo rischiato di superarlo. Nel caso in cui dovessimo superarlo ci viene tolta la certificazione. Bisognerà quindi chiedere deroga in regione e essere in grado di mantenere questo olio in sovrapproduzione con le nuove tecniche di conservazione. Sicuramente ci sono state una serie di fattori che si sono sommati e a un'annata che naturalmente prevedevamo di scarica, quindi con una fioritura ridotta, si sono uniti degli eventi meteoclimatici che non hanno sicuramente favorito quella che è l'allegagione, quindi l'impollinazione del fiore, a cui successivamente è seguita una serie di problematiche di natura possiamo definirla parassitaria che hanno compromesso la produzione. In particolare tra i parassiti che sono maggiormente coinvolti in questa perdita produttiva c'è la cimice asiatica che andando con il suo stiletto, con il suo apparato boccale pungente succhiante va a estrarre l'embrione, va a succhiare l'embrione prima che avvenga l'indurimento del nocciolo. Questo porta a una caduta dell'oliva che può necrotizzare o cadere addirittura verde e fondamentalmente questo è avvenuto all'incirca dal periodo appunto dell'allegagione, quindi dopo la fioritura sino ad arrivare all'indurimento nocciolo, cioè quando l'oliva va a lignificare quelli che sono i tessuti del seme. Successivamente a questa fase l'insetto l'abbiamo riscontrato ancora negli oliveti ma non sono conseguite quelle che sono le perdite produttive a livello di cascola. Abbiamo avuto in questa fase, quindi dall'indurimento del nocciolo fino ad ora, una deformazione dei frutti e fondamentalmente un'invaiatura anomala, quindi cinghiature, maturazioni troppo anticipate. Ci sono delle piante che hanno resistito di più, delle varietà? Assolutamente, tra le varietà che vengono coltivate in Lombardia ne abbiamo riscontrate di più suscettibili, una su tutte il leccino. Abbiamo avuto una buona sensibilità a questa cascola anche da parte di Frantoio e tutta la famiglia di Frantoio, quindi Casaliva, Sbresa e altre varietà afferenti alla varietà Frantoio. Altre varietà invece meno rappresentate hanno resistito meglio e in particolare Leccio del Corno, Grignano e Maurino sono state tra quelle che hanno resistito appunto un po' di più a questa cascola anomala. Siamo a fianco di una pianta che può essere presa un po' ad esempio perché qui effettivamente le olive ci sono ma la quantità presente su forse quest'unica pianta non dà modo di fare una vera e propria raccolta, sarebbe anche antieconomico per un'azienda. Assolutamente, questa è una rarità trovare una pianta così carica di olive e comunque i frutti presenti in pianta non giustificano assolutamente la raccolta perché sono presenti in una quantità troppo ridotta che renderebbe poi il costo dell'olio del prodotto finito troppo oneroso da immettere sul mercato. Questa varietà Maurino è appunto una delle poche che ha resistito, è un po' una mosca bianca, una tra le mosche bianche presenti quest'anno però in ogni caso sono presenti pochi numeri di queste varietà che hanno tollerato appunto un po' di più la cascola di conseguenza poi le operazioni di raccolta nella maggior parte dei casi non avverranno. Normalmente che cosa si utilizza per contrastare la cimice? Sappiamo purtroppo che contro i cambiamenti climatici invece nulla si può fare. Nulla si può fare contro i cambiamenti climatici, contro insetti come ad esempio appunto la cimice asiatica si possono andare a utilizzare degli insetticidi, l'efficacia degli insetticidi varia in base alla molecola presa a riferimento. In linea di massima quello che si è notato quest'anno è che due sono stati prodotti che hanno funzionato discretamente che sono acetamiprid e deltametrina. Nel biologico si potrebbe pensare a degli interventi con piretro naturale ma comunque nella filosofia del biologico c'è un minore impatto ambientale possibile. Piretro pur avendo una bassissima persistenza in oliveto purtroppo ha il grosso difetto di fare un po' piazza pulita degli insetti presenti nel senso che è attivo in maniera non selettiva contro tutte le forme di insetti presenti. Questi sono fortunatamente chiamiamoli degli strascichi di quella che è stata la cascola verde che si è verificata appunto dalla fioritura, quindi dalla legagione, dal post fioritura sino all'indurimento del nocciolo. Le olive si presentavano per la maggior parte di questa colorazione con questi raggrinzimenti e come si può notare c'è anche un'assenza dell'embrione, quindi uno svuotamento di quello che è fondamentalmente il futuro della pianta. Una volta che la pianta capisce che non ha presente il seme, quindi la sua generazione futura, allora il frutto viene abbandonato. Questo appunto dicevamo è un danno prodotto da cimice asiatica, oltre a questo problematiche numerose ci sono in olivicoltura in questo periodo e una su tutte è la problematica batterica che ha interessato per ora fortunatamente solo la Puglia. In Lombardia stiamo monitorando anche, soprattutto con il contributo del servizio fitosanitario regionale, appunto la presenza o l'assenza di questa malattia. Finora non abbiamo ancora riscontrato campioni positivi, quindi finora siamo ancora indenni da xylella. Il foro di sforfallamento che abbiamo visto è dovuto a mosca olearia, quest'anno c'è una grossissima presenza, per il semplice fatto che ci sono poche olive in pianta, quindi le mosche che sono presenti negli oliveti si vanno a concentrare appunto sui pochi frutti che sono ancora presenti in pianta. Questo è sempre stato il parassita principale per quanto riguarda l'olivicoltura. In questi anni stiamo vedendo che ha delle forti oscillazioni a livello di popolazione da anno con anno, ancor più marcate rispetto al passato. Il grosso danno che va a creare questo insetto è quello di, attraverso il foro di sforfallamento, avviene l'ingresso di ossigeno all'interno dell'oliva, quindi l'ossigeno viene a contatto con quello che è l'olio presente appunto nel mesocarpo, nella polpa dell'oliva e va a difettarlo, cioè va a produrre un'ossidazione a cui seguirà poi una fermentazione e quindi l'olio con grossi quantitativi di olive compromesse da questo insetto potrebbe essere anche soggetto a dei difetti organolettici. Tramite Regione Lombardia e tramite l'Ersaf, grazie alle richieste che ha fatto Coldiretti, siamo riusciti ad avere un progetto, un progetto che è stato fatto quest'estate. Di fatto sono stati scelti tre uliveti che avessero le dimensioni simili, quindi degli areali simili che avessero le cultivar simili e le dimensioni simili e su questi areali, su questi uliveti, sono stati provati dei nuovi trattamenti, delle nuove molecole, ovviamente consentiti in agricoltura biologica. Questi trattamenti sono stati fatti ogni dieci giorni e ogni dieci giorni i tecnici dell'Università di Torino, quindi chi ha creato questo progetto, venivano in campo e controllavano le variazioni della presenza della cimice asiatica. E questo è avvenuto dall'inizio di giugno, quindi di fatto quando poi sono comparse le prime olive, fino a settembre. A settembre sono stati raccolti un piccolo quantitativo di olive, quelle poche che c'erano nei vari areali, e sono state poi portate in università, dove verranno fatte, tramite dei calcoli e tramite delle analisi, il calcolo appunto di quello che la cimice asiatica ha causato sulle nostre olive, perché abbiamo notato degli avvallamenti, una sorta di avvallamenti dove la cimice asiatica ha punto l'oliva, non sappiamo ancora se questa puntura probabilmente trasmette un batterio, così come fa la sputacchina con la xylella nella regione Puglia, e oltretutto questa puntura potrebbe anche causare delle differenze sull'olio che poi si andrà ad estrarre con queste olive. Potrebbero esserci delle modifiche a livello organolettico, quindi riportare dei difetti, di fatto, che potrebbero diventare dei nuovi difetti che ancora non esistono nei nostri elenchi. C'è una correlazione tra l'aumento della presenza della cimice asiatica e il cambiamento climatico? Penso proprio di sì, perché abbiamo notato la presenza della cimice asiatica all'incirca tre anni fa, grossomodo, e questi continui cambiamenti climatici, ma soprattutto anche all'interno di un solo mese, quindi di un breve periodo, ci sono dei cambiamenti molto forti. E la cimice asiatica, di fatto, non era mai stata presente nei nostri oliveti. C'era la nostra cimice, ma la cimice asiatica mai. Tra l'altro, con l'Università di Torino, abbiamo verificato che ci sono diverse specie di cimice asiatica e di conseguenza vanno monitorate. Un danno enorme per l'intero indotto dei lavoratori stagionali impegnati nella raccolta delle olive ai frantoi, che rimanano aperti un solo giorno a settimana. I nostri frantoi, qui sul lago, ma anche sugli altri laghi lombardi, molti non apriranno nemmeno, o comunque, se aprono, apriranno soltanto un giorno alla settimana. E questo cosa comporta? Comporta sicuramente perdite a livello di personale, che di fatto quel personale stagionale che si occupava del frantoio non avrà modo di lavorare, e poi l'indotto delle bottiglie nel momento in cui ci sarà poi l'imbottigliamento, piuttosto che poi dei filtri per il filtraggio delle olive, e di conseguenza anche, per quanto riguarda gli anticertificatori, i bollini che poi noi richiederemo. Di fatto quest'anno non verranno richiesti. Le più colpite sono le aziende biologiche, che è una cinquantina in Lombardia. Essendo in agricoltura biologica, di fatto non possiamo utilizzare, e non utilizzeremo mai, ma non possiamo utilizzare quelle molecole che invece potrebbero eliminare la cimice asiatica. Di fatto però, essendo insetticidi, andrebbero a eliminare non solo la cimice asiatica, ma anche tutti gli altri insetti che invece fanno bene al nostro territorio. E quindi di conseguenza abbiamo un ulteriore danno. Sempre tramite Regione Lombardia, sono stati fatti dei lanci di un altro insetto, questo in particolare si chiama la vespa samurai, che è l'antagonista naturale della cimice asiatica. Lanci non sono stati fatti in maniera massiccia, come probabilmente dovevano essere fatti, per avere poi un risultato di eliminazione o comunque diminuzione di questa cimice asiatica, anche se ovviamente sarà un risultato che avverrà nel lungo periodo. Ma è sempre un punto di domanda, inserire nel territorio un insetto di fatto alieno, perché non è del territorio, non sappiamo quali potrebbero essere i danni appunto a lungo termine. L'agricoltura biologica può essere un'arma importante nella lotta alla sostenibilità, soprattutto alla luce di tutti questi cambiamenti climatici ai quali stiamo assistendo. Ovviamente l'uomo nulla può fare come abbiamo detto, però i cambiamenti climatici sono causati anche molto spesso dall'azione dell'uomo. Quindi in agricoltura che cosa si può fare per cercare di tamponare un po' queste situazioni che poi ovviamente vanno a discapito dei produttori e poi anche del consumatore finale? L'equilibrio naturale, che è quello che si auspica poi con la pratica dell'agricoltura biologica, è una situazione dove appunto si ha un equilibrio tra eventuali insetti che generano problematiche, quindi insetti che vanno a creare danno e i propri antagonisti. Nel momento in cui si va a alterare questo equilibrio attraverso interventi insetticidi o comunque degli interventi che vadano appunto a squilibrare questo equilibrio, si possono generare quelli che sono degli andamenti di popolazione anomali con una presenza di insetti dannosi che viene favorita appunto dall'assenza degli antagonisti. L'agricoltura biologica è sicuramente un traguardo a cui si deve arrivare, nel senso che il minore impatto ambientale possibile è assolutamente da ricercarsi anche in olivicoltura come in tantissimi altri settori. Sicuramente quello che l'agricoltore può fare è cercare di essere il meno impattante possibile con il proprio oliveto, quindi ridurre al minimo le lavorazioni del terreno preferendo l'inerbimento permanente, questo favorisce l'entomo fauna utile, questo favorisce la fertilità del terreno e ridurre al minimo, allo stretto necessario, quelli che sono gli interventi da effettuarsi sulla pianta proprio a tutta chioma. Dal momento che quest'anno non ci sarà la raccolta, questo cosa comporta per il futuro della pianta, la salute della pianta e dell'olivo? La salute della pianta in sé non avrà grosse ripercussioni se non una limitazione di quello che è l'accrescimento vegetativo in questo periodo. In questo periodo fortunatamente avviene in maniera molto limitata, quindi non ci sarebbero grosse ripercussioni. Quello che potrebbe essere una grossa ripercussione è quello sulla produzione dell'anno futuro. un'oliva rimasta in pianta dà all'olivo, alla pianta stessa, un input sul non andare a generare una grossa fioritura proprio perché la produzione è ancora presente, quindi la sua progenie è ancora presente ed è ancora disponibile. Nel momento in cui noi dovessimo attuare delle operazioni per ovviare a questa problematica, un consiglio sarebbe quello di effettuare una raccolta anche a vuoto, cioè senza stendere le reti, ma comunque cercare di allontanare le olive dalla pianta fondamentalmente. Per quanto riguarda poi un'ulteriore problematica, si potrebbe andare a generare una generazione primaverile di mosca dell'olivo sull'oliva rimasta in pianta sana dall'anno precedente, quindi si va a creare un bacino di insetti, un aumento di popolazione che andrà poi a riversarsi sulla produzione dell'anno futuro, quindi il consiglio in questo caso sarebbe quello di effettuare comunque un allontanamento delle olive. La ricerca sta proseguendo, sempre più aziende che producono fitofarmaci o comunque soluzioni valide per gli agricoltori si stanno spostando e stanno concentrando i propri sforzi su tecniche, prodotti o soluzioni comunque proprio per permettere alle aziende che conducono agricoltura biologica di produrre, se non come quelle convenzionali o integrate, comunque di avvicinarsi il più possibile. Col Diretti e in questo caso tutte le province della Lombardia dove ovviamente viene fatto l'olio, quindi Brescia, Bergamo e Como e Lecco, hanno fatto una domanda in Regione Lombardia per presentare ovviamente la situazione che c'è, la situazione drammatica che c'è e per chiedere, perché di fatto quello è la necessità che abbiamo, che continuino ad esserci degli investimenti della ricerca di modo che nelle future annate sapremo come comportarci. Quanto successo quest'anno deve fare riflettere e rende più che mai urgente un vero e proprio cambio di rotto. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!